I Sernia, il polo scolastico di San Leucio, ospiterà i ragazzi della scuola media Andrea di Sernia e di bambini della scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco. E' quanto affermato dall'assessore comunale all'edilizia scolastica Sonia De Toma. L'esponente dell'amministrazione ha anche precisato che al momento manca ancora il crisma dell'ufficialità. Dunque, laddove dovessero verificarsi i rilevanti fatti nuovi, l'attuale decisione potrebbe mutare. Tuttavia, alla base della scelta, precisa l'esponente dell'esecutivo, motivazioni oggettive. In primis, una questione legata alla continuità didattica e amministrativa. Le due scuole citate, infatti, fanno parte del medesimo organismo, l'Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, in comune, dirigente e apparato di segreteria, che, in questo modo, confluirebbero nella medesima struttura. Inoltre, ci sarebbe anche una questione infrastrutturale legata all'attuale sede dell'Andrea di Sernia in Via Pascoli. Qui, l'ipotizzato trasferimento di alcune classi non sarebbe tecnicamente possibile all'interno del medesimo edificio. E poi c'è il discorso della maggiore numerosità della citata media rispetto all'altra, la Giovanni XXIII. In realtà, anche da quella scuola si avanza la medesima richiesta nei confronti della sede di San Leucio. E proprio perché, al momento, appare certo il solo trasferimento della scuola dell'infanzia San Giovanni Bosco, quella che rischia di innescarsi è, come sottolineato dalla portavoce del Comitato Scuole Sicure, Sandra Marcucci, una sorta di competizione tra le due scuole che si contendono l'edificio in costruzione. Una ipotesi quest'ultima che potrebbe essere scongiurata soprattutto grazie all'iniziativa dell'amministrazione civica, chiamata a chiarire tempistiche di fine lavori e soluzioni per tutte le scuole di competenza, ospitate in edifici potenzialmente inidonei. Grazie a tutti.